Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale. In FIPILI rallentamenti per veicolo fermo o in avaria tra la Strassigna e Firenze-Scandici in direzione di Firenze. Sempre in FIPILI per lavori, segnaliamo la chiusura dell'uscita del Livorno-Porto per chi proviene dal Livorno. Uno sguardo al traffico ferroviario a seguito dell'investimento di un animale di grossa taglia, i treni della linea Siena-Firenze stanno subendo ritardi. Al momento sono coinvolti 5 treni regionali con ritardi compresi tra gli 8 e i 17 minuti. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al Via in settimana, segnaliamo quelli alla rete del gas in Via della Torre e gli interventi sui chiusini in Via Gioberti. Previsti provvedimenti di mobilità. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!